Si continua attraverso tutti i canali per supportare le procedure per il rientro delle salme di Matteo Cazzola, l'ingegnere 35enne di Vicenza, e Pietro De Bernardini, lo studente di 25 anni di Isola Vicentina. Le due vittime del gruppo di Vicentini, travolti dalla Valanga in Norvegia il 31 marzo, tra cui anche Andrea Basso, la guida alpina ricoverata al San Bortolo. Si attende il nulla osta, anche se c'è la possibilità che l'autorità giudiziaria norvegese decida di eseguire l'autopsia sul corpo della seconda vittima, Pietro, deceduto ad una settimana dal ricovero in ospedale a Tromso, per far luce sull'accaduto. Intanto il sindaco Francesco Gonzo, in costante contatto con la famiglia rientrata in Italia, ha espresso la volontà di ricordare il giovane proclamando il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali. Rimangono attivi ancora e aperti tutti i canali con l'ambasciata italiana ad Oslo e con la farnesina, oltre naturalmente con la famiglia di Pietro De Bernardini. In un colloquio odierno ho manifestato al padre l'intenzione della nostra giunta di proclamare lutto cittadino per il giorno dei funerali. E' naturalmente un momento di cordoglio comunitario per far sentire la vicinanza anche in questo modo. E' naturalmente un momento di cordoglio comunitario per far sentire la vicinanza anche in questo modo.